Il bastone senza la carota è quello utilizzato dall'amministrazione Trump, che ha deciso di aumentare dal 10 al 15% i dazi sugli aerei importati dall'Unione Europea. Salvi, nel senso che non ci sarà aumento del balzello già presente, i vini, l'olio d'oliva e gli altri prodotti italiani che rischiavano dazi fino al 100%. La decisione di colpire in maniera più incisiva l'importo di aerei, con l'aumento che entrerà in vigore il 18 marzo, è stata annunciata dall'ufficio del rappresentante speciale al commercio, che ha la delega sul commercio internazionale. La decisione del USTR rientra nella querel degli aiuti di Stato concessi ad Airbus, per i quali la WTO, l'Organizzazione Mondiale al Commercio, aveva autorizzato gli Stati Uniti a imporre dazi fino a 7 miliardi e mezzo. Dazi che hanno colpito anche altri prodotti, con tariffe del 25% che restano in vigore, come vini francesi, olive spagnole, formaggi italiani come parmigiano e grana, salumi e whisky.